ciao ragazzi bentornati con l'ottava e l'ultima parte di zone of the enders second runner siamo alle battute finali ci manca soltanto da sconfiggere questi nemici insulsi e di battere finalmente a nubis il combattimento sarà lunghino perché è abbastanza tosto come vedete questi nemici vanno giù subito perché siamo alti di livello abbiamo lo zero shift che le ferisce soltanto toccandoli eh sono anche salito ancora mamma mia quanto è insistente ah meno male che fanno schifo avevo già paura di affrontarne tante insieme ma dai niente di che è stato facilissimo meno male non preoccuparti che te la riporti intera quasi aumann chiusa me aumann può diventare vero guarda la perfetta fusione di metatron la distruzione può finire tutto si si ok dai inizia ecco iniziamo malissimo devo per dire inizia lo scontro finale decisivo ok non lo riesco a colpire ci sarà un modo sicuramente lo devo stunnare in qualche modo non lo riesco a toccare maledetto ah ecco sicuramente perché ha quegli esagoni del cavolo che lo proteggono a un po' io rotto ok a un po' io tolto ... Mienta... ... mi volo a colpire al momento di... Questo ho capito perchè devo usare un colpo caricato, se no non riesco a bucare le difese. Poi c'è anche lo scudo. Questo scudo che crea dobbiamo distruggerlo perchè recupera un po' di vita, se ho visto bene. Non sono sicuro. Non è molto difficile, però ci si mette un po' a colpirlo. Paradossalmente anche a livelli alti questo è lo scontro più facile. Spara anche questo raggio della morte. Guarda che recupera la vita il maiale. Piano piano sto avendo la moglie. Appena detto mi ha scagliato bene. Devo stare zitto perchè mi porto le sfiga da solo. Ok. 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 ... Ok. Uri Oh, gli manca un colpo, maledetto. Siamo fatta apposta, non riesco a colpire, pensa a te. Oh. E ultimo colpo, oh, muori, mamma mia, quanto ci godo quando lo ammazzo tutte le volte. Fanculo disintegrativo. Fanculo disintegrativo. Cosa è quella luce? Almon è iniziato. Cosa? Aida! Non veni! Tingo, questo è... Get out of here! Non riesco a evitare Almon's radiative energie. What should I do? By blowing up Jehuti, the reactor will lose control. The resonance of energy will cancel each other out. No! Aida! It is my duty. Switching mode. I am ready to blow up Jehuti to complete 200. No! Leo! Aaaaaah! The light is constricting. It's too late. Impossible. 190 remaining. Don't give up! Aida, radiate Jehuti's energy and strike it against the core of Almon. That's not enough. If it doesn't work, do whatever you please. 180 remaining. But... Don't just wait to die. Don't just wait to die. 170 remaining. 180 remaining. 180 remaining. 180 remaining. 180 remaining. 180 remaining. Is it b lavender? 100 rinsu, 65 00h50. The battery probably can buy. 100 multiple strainers. Both areologinated. 100% NOW. ха pa 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 pa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.